Sì, questo è vero, anche se al primo tempo siamo stati padroni del campo, anche per buona parte della ripresa, comunque merito a loro che ci hanno fino all'ultimo, anche quando sembrava che ormai il risultato della parità era acquisito, hanno trovato una indecisione nostra davanti dal portiere e hanno trovato la vittoria. Comunque voglio fare i complimenti ai miei ragazzi per la stagione fantastica che mi hanno regalato e un bocca al lupo a loro. Da dove ripartiamo sicuramente da 4-5 ragazzi fantastici che abbiamo quest'anno e poi il resto si vedrà.